E' arrivata la posta. Ah si? C'è niente per me? No, niente. Sono più di 15 giorni che Alberto non scrive. Già, non c'è da meravigliarsi. Devono essere paesi impossibili. E non sei preoccupata di questo silenzio? Preoccupata? Perché dovrei esserlo? Del resto posso risparmiarmi questo fastidio. Sei tanto preoccupata tu. Che cosa vuoi dire? Niente, una semplice constatazione. Che sei più che mai innamorata di lui. E tu non ne sei innamorata? Che c'entra, certo che lo so. Del resto, anche se non lo fossi. Ma che dici? Dico che forse abbiamo fatto una grossa sciocchezza. Tu, io, lui. Beh pazienza, ormai non si può più tornare indietro.